Si è importante che volevo darvi, il leader ungherese Viktor Orban ha annunciato il ritiro degli eurodiputati dal suo partito dal PPA, cioè Orban esce dal PPA, si apre un posto libero per Salvini, diciamo che lui andrà con la Meloni, ma... Orban, Marcello che ha fatto? Si è iscritto a Fatale d'Italia, Orban, non hai saputo niente tu? Non ho saputo niente, però l'ipotesi di Senaldi è realistica, nel senso che stare dentro il PPA comporta anche certi doveri e Orban li ha violati quasi tutti, per cui è sempre stato con un piede dentro e un piede fuori e con il rischio che lo cacciassero, quindi probabilmente se esce perché non ha intenzione di rispettare più le regole del gruppo.